La mascherina, vai da te, ecco, non voglio dire, questa cosiddetta emergenza del coronavirus si è trasformata in un rapporto, in un approccio quotidiano nel quale noi stiamo imparando a portarci in maniera razionale. Il problema è che il coronavirus ha messo a dura prova quello che è il rapporto tra il pericolo del coronavirus. Nonno, prepara una mascherina. Ecco qua. Per donna Maria che c'è una fredda. Con l'azionatrice del visaggio. Stop al cialtronismo. È un virus letale, è un virus letale e questo vale sia per quello che riguarda la popolazione sia chi informa ma anche chi ha responsabilità istituzionale. Questa è la mascherina, l'ha aprite. Questa vicenda, insomma, direi quelli che sono i rischi sanitari, c'erano spiegati in tutte le lingue del mondo, ma credo che sia chiaro a tutti. Ecco qua, e poi deve fare quello che vuole. Ciao ciao. Brava non notamente. Fatela pure voi, uno a ciascuno. Esaminare tutto quello che è successo a livello globale in seguito a questa emergenza sanitaria.